Ciao a tutti amici nel tour, eccoci qua, situazione centrale, 31 agosto 2018, 5 e mezza circa, a breve dovranno arrivare i ragazzi, con il pullman per partire, per la terza giornata di Serie A Team 2018 2019, Bologna, Bologna, domani alle ore 18, ci vediamo all'aria. Ciao Andre, aspetta Max, vai Brozzo, vai Stefan, vai Ivan, grande Sime, grande, grande gioco, vai Savir, dai forza, dai ragazzi, dai forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, vai Dan, ciao Giovanni, ciao. Vai Mauro, vai Joao, vai Lauta. Appena partita l'Intel, direzione Bologna, speriamo domani vada tutto bene, incrociamo le dita, la partita ovviamente sarà già finita, è stato sempre bello, è sempre bello incontrare i ragazzi, tra l'altro Caramon non c'era, quindi ufficialmente possiamo annunciare che è in prestito, è andato in prestito al Bordeaux, a breve arriverà la nostra selezione, il nostro dovere l'abbiamo fatto, i ragazzi l'abbiamo caricato, qualche 5 a qualcuno l'abbiamo dato, mister concentrantissimo per la gara di domani, vedremo cosa avrà in mente Luciano, incrociamo le dita e quindi se il video vi è piaciuto mettetelo al commentato, condividete, iscrivetevi al nostro canale, passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione, anche quelli del nostro grafico che anche quello trovate in descrizione, mi raccomando, sempre, forza in ferro.